Tanto basket a tutti i livelli al Palasport di Lanciano con l'amministrazione comunale che ha affidato ad Unibasket e Azzurra Basket la gestione della struttura per ora in modo provvisorio nel prossimo futuro in via definitiva. Dunque il Palasport torna nuova vita e alla certezza di essere sempre aperto e fruibile a completo carico delle due società che vantano una lunga serie di attività cestistiche a tutti i livelli e per tutte le età. Già si è provveduto a mettere in pratica le disposizioni governative con la federazione pallacanestro che impone protocolli specifici. La sicurezza nelle attività sportive va garantita. Valerio Di Battista, dirigente responsabile Unibasket. Noi siamo pronti, martedì ripartirà per ultimo anche il Minibasket che adesso ha dei protocolli aggiornati e quindi ci sarà un lavoro più individuale che collettivo mentre per quanto riguarda la prima squadra e il settore giovanile già sono ripartiti sempre in sicurezza rispettando tutti i protocolli. Non vediamo l'ora di scendere in campo per la prima partita ufficiale che ricordo e sabato e domenica 15 novembre subito il primo derby contro l'amatori Pescara. Tutto questo mentre è iniziato il conto alla rovescia per il campionato di serie C-Gold. 200 spettatori potranno assistere alle partite interne dell'Unibasket col palasport già dotato di ingressi separati, seggiolini alternati, percorsi segnalati. Chiusa la biglietteria ci si potrà solo abbonare. Quali giorni annunceremo la campagna di abbonamenti che avrà delle novità per dare la possibilità almeno ai vecchi abbonati di avere la possibilità di continuare a vedere anche quest'anno le gare cosalinghe, sempre con tutti gli accorgimenti e seguendo tutti i protocolli nazionali.